ciao oggi vedremo come caricare le vostre toc per i viaggi in auto per caricare la bici con entrambe le ruote montate la prima cosa da fare è ribaltare il sedile della seconda fila in questo modo in modo da avere lo spazio per infilare la ruota anteriore o posteriore sul battipiede della seconda portiera allora ricordate sempre di smontare i pedali della vostra bicicletta per evitare di rovinare gli interni della vostra auto e soprattutto altre biciclette che potreste dover caricare a fianco alla prima proteggete sempre gli interni magari aggiungendo del materiale tipo gomma piuma o anche solo una coperta e poi potete procedere in questo modo fissando la sella alla maniglia in questo modo in questo modo la bicicletta sarà molto stabile e non si muoverà assolutamente nel caso in cui dovesse caricare due biciclette complete senza rimuovere la ruota anteriore due consigli il primo caricare le bici testa coda vi farò vedere adesso come e per limitare gli ingombri potete anche allentare il manubrio in modo da girarlo la posizione ideale quindi è testa coda quindi parte anteriore della bicicletta che combaccia con la parte posteriore della seconda bicicletta ricordate sempre di inserire qualcosa tra i due telai in modo che non si rovinino e ricordatevi sempre di assicurare le vostre biciclette prima di utilizzare la bicicletta naturalmente ricordatevi di ripristinare la posizione corretta del manubrio facendo attenzione ad eventuale gioco sulla serie sterzo e poi ricordatevi di stringere le apposite viti di fissaggio se avete la macchina di dimensioni più piccole o se per necessità non potete abbattere i sedili della della seconda fila potete comunque caricare la vostra bicicletta rimuovendo la ruota anteriore ricordate sempre di mettere il perno e la forcella in posizione e di aggiungere lo spessore in mezzo alle pastiglie della pinza freno se non hai lo spacer è sufficiente inserire un pezzo di carta o di cartone tra le pastiglie in modo da evitare che queste vadano a contatto in questo modo potete caricare la bicicletta senza ruota anteriore senza abbattere i sedili o nel caso in cui appunto non avesse tutto questo spazio diciamo nella vostra nella vostra macchina ricordate sempre di fissare comunque la bicicletta l'ideale per la sella nel caso in cui la vostra automobile avesse uno spazio di carico davvero ridotto potete comunque caricare la vostra toc in auto primo avendo anche la ruota posteriore prima cosa da fare è portare il cambio e la catena sul pignone più piccolo in questo modo poi possiamo procedere smontando la ruota come per la ruota anteriore anche per la posteriore ricordate di reinserire il perno piccolo trucco potete far passare la catena in questo modo prima di riabitare il perno in modo che questa resti tesa e in posizione ricordatevi sempre di inserire lo spacer tra le pastiglie freno della pinza posteriore basta adagiare delicatamente la bici all'interno dell'abitacolo in questo modo magari aggiungendo anche una protezione sulla zona del carro nel caso in cui doveste caricare le ruote e metterle sopra la bicicletta ricordatevi ovviamente di mettere un qualcosa a protezione del telaio delle parti più importanti come potrebbe essere una coperta o diciamo del pluriball comunque del materiale isolante morbido nel caso in cui dovreste rimontare la ruota posteriore dopo averla rimossa per caricare la vostra toc in macchina i consigli sono i seguenti quindi capovolgere la bicicletta appoggiandola su una superficie morbida in modo che non si rovini svitare il perno posteriore tenere sollevato il cambio inserire la ruota facendo attenzione posizionare la catena sul pignone più piccolo per inserire il perno passante posteriore pronti per partire